Il falso scoperto al macrolotto, sequestrati i capi di abbigliamento e strumenti per contraffare la stoffa. Operatrice dell'ospedale inseguita da uno sconosciuto all'uscita del turno, il nursing denuncia, occorre più vigilanza. Alluvione, partono i controlli contro l'abbandono illecito di rifiuti, stasera parliamoci chiaro a focus sui rimborsi. Restaling dei marciapiedi in via Pistoiese, i commercianti di Narnali perplessi sulla nuova isola pedonale. Villa Guicciardini, dopo l'alluvione e la ripartenza in vista degli eventi di Natale e tante le iniziative in programma. Una buona serata dalla nostra redazione, bentrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. La Guardia di Finanza di Prato scopre filiera del falso al macrolotto, individuato il laboratorio in cui si stampavano tessuti e vestiti con marchi contraffatti e la ditta in cui venivano stoccati prima del confezionamento. La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto nella zona industriale pratese un laboratorio che produceva abbigliamento con marchi contraffatti. Le indagini delle fiamme gialle hanno prima portato all'individuazione di un'azienda al macrolotto dove in seguito a controlli sono stati sequestrati oltre 6.000 capi di abbigliamento e accessori recanti marchi contraffatti, oltre a circa 1.000 metri lineari di stoffa in corso di lavorazione pronti ad essere confezionati. Tutta la merce sequestrata proveniva appunto da un laboratorio presso il quale sono stati rinvenuti e sequestrati 20 cliché e 15 punzoni, strumenti necessari alla stampa dei marchi falsi. Nell'ambiente criminale della contraffazione il valore economico dei cliché e dei punzoni riveste un ruolo molto importante perché proprio grazie al loro utilizzo che un tessuto anonimo viene trasformato in note griffe della moda nazionale e internazionali. Basta immaginare che con un utilizzo quotidiano regolare e cliché sequestrati sarebbero stati in grado di trasformare in un solo giorno oltre 85.000 capi di abbigliamento anonimi in capi contraffatti per un valore commerciale di circa un milione di euro giornalieri. Gli accertamenti tecnici effettuati con l'ausilio di consulenti specializzati hanno evidenziato l'elevatissima fattura e precisione nella riproduzione di quanto sequestrato ed hanno permesso di confermare le ipotesi investigativi a seguito delle quali sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e al titolare della ditta dove sono stati rinvenuti i capi falsificati oltre al responsabile del laboratorio utilizzato come stamperia per i reati di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi. Carabinieri e Agenzia delle Dogane hanno effettuato un maxi sequestro di capi di abbigliamento contraffatti in un negozio a conduzione cinese a San Giusto. Il valore della merce tra cui i piumini, giacche, scarpe, borse e altri accessori è quantificata in 200.000 euro ma la vendita al dettaglio avrebbe fruttato una cifra ancora più alta di circa 800.000 euro. L'intervento è avvenuto ieri sera e ha portato alla denuncia del commerciante un cittadino cinese che dovrà rispondere di detenzione e commercializzazione di capi recanti, loghi e segni falsi di noti brand del settore. Sequestrati anche 3.000 euro quale provento dell'attività illecita. Operatrice dell'ospedale inseguita da un uomo sconosciuto e incappucciato all'uscita del turno sterale, la donna è riuscita a raggiungere l'auto e a scappare. Il nursing scrive al prefetto e l'asl per chiedere il potenziamento della vigilanza e maggiori tutele per il personale sanitario che lavora al Santo Stefano. Una operatrice socio-sanitaria in servizio presso l'ospedale di Prato è stata inseguita e spaventata da uno sconosciuto incappucciato mentre la donna, una volta terminato il suo turno di lavoro, si stava recando al parcheggio dipendenti del Santo Stefano per tornare a casa. L'episodio è accaduto la sera di lunedì 4 dicembre, poco prima delle 19.30. L'operatrice socio-sanitaria è stata rincorsa dall'uomo che aveva un aspetto trasandato ed è riuscita ad entrare nella propria auto, a mettere in moto e allontanarsi prima che lo sconosciuto la raggiungesse. La dipendente della ASL ha avvertito le forze dell'ordine e le guardie giurate in servizio all'interno dell'ospedale, ma al momento del loro arrivo l'uomo aveva già fatto perdere le proprie tracce. La donna ha avvertito la ASL dell'accaduto compilando il modulo che l'azienda sanitaria ha predisposto per raccogliere i casi di aggressione al personale sanitario. Del caso si è interessato anche il sindacato Nursind che ha scritto al direttore generale della ASL Toscana Centro Valerio Mari e al prefetto Adriana Cogode per sollecitare interventi atti a rendere il parcheggio dell'ospedale più sicuro, vigilato, illuminato e videosorvegliato. In un momento in cui gli organi di stampa non fanno altro che dare notizie di aggressioni a donne, Nursind non può tollerare che l'azienda non tuteli i propri dipendenti, afferma Roberto Cesario, coordinatore del Nursind di Prato, che ribadisce la richiesta al prefetto di istituire nell'ospedale un posto di polizia 24 ore su 24 e alla ASL di mettere in campo sin da subito la vigilanza attiva utilizzando anche il gabbiotto lungo la strada d'ingresso al presidio sanitario oltre che il potenziamento dell'illuminazione dei parcheggi. È stata approvata oggi dal Consiglio Comunale la variazione del bilancio di 980 mila euro che servirà a finanziare gli interventi di somma urgenza per la riparazione dei danni alla rete stradale e ai cimiteri provocati dall'alluvione del 2 e 3 novembre. Si tratta del primo intervento di un pacchetto più ampio che prevede opere di ripristino straordinarie di ulteriori 7 milioni di euro. Inoltre è stato annunciato il riconoscimento di un altro debito fuori bilancio per circa 550 mila euro per finanziare le opere in somma urgenza di riparazione e protezione dell'abitato di Figline già in corso in seguito allo smottamento di una parte di collina in una zona privata. In particolare le opere che andrà a coprire la variazione di bilancio sono 13. In prefettura si è tenuta una riunione per analizzare l'accaduto e fare il punto della situazione ad un mese dall'alluvione. A breve partiranno i controlli per scongiurare l'abbandono dei rifiuti non alluvionati per strada. A poco più di un mese dall'alluvione che ha colpito la nostra provincia in prefettura si è tenuta una riunione per analizzare l'accaduto e fare il punto della situazione. Ad oggi restano ancora evacuate 27 persone, due nel comune di Prato e 25 in quello di Cantagallo e sul fronte del ripristino degli argini restano ancora aperti un intervento sul torrente Bagnolo e uno sul Iolo Bardena. Nell'analizzare l'operato della catena di soccorso durante l'emergenza sono emersi alcuni difetti di raccordo e comunicazione che in futuro si cercherà di colmare per rendere ancora più veloce ed incisivo il supporto alla popolazione. A seguito di questa riunione io proporrò un piano speditivo che consenta a tutti coloro che devono nell'immediatezza intervenire a prescindere dalla convocazione, dalla telefonata eccetera sappiano che nel momento in cui scatta l'emergenza determinati organismi si autoconvocano e si attivano senza perdere neanche un secondo di tempo. Il comune di Prato si sta già attivando per mettere in sicurezza la frana che a Figlini ha comportato l'evacuazione di alcune famiglie mentre la provincia ha effettuato una variazione di bilancio da 8 milioni per gli interventi di somma urgenza soprattutto in Val Bisenzio. L'attenzione adesso si sposterà sull'abbandono dei rifiuti in strada. L'alluvione infatti ha generato una mole consistente di rifiuti ma nelle ultime settimane è emerso che insieme a quelli provenienti dall'alluvione cittadini ed imprese hanno abbandonato illecitamente per strada anche rifiuti non alluvionati. Per questo nei prossimi giorni la Polizia Municipale effettuerà controlli mirati in zone già individuate anche con l'uso di fototrappole. Situazioni di enorme pericolo sia dal punto di vista igienico-sanitario perché appunto si tratta di rifiuti di cui non conosciamo la natura e poi dal punto di vista della pubblica e privata incolumità perché ovviamente il materiale che venga riversato su strada rappresenta un ulteriore ostacolo al decorso delle acque in caso di pioggia. E stasera parliamoci chiaro, si discuterà dei ritardi nell'arrivo dei risarcimenti alle aziende alluvionate, l'appuntamento è alle 21 subito dopo il nostro telegiornale. A poco più di un mese dall'alluvione che ha colpito il nostro territorio le imprese, le aziende danneggiate ancora non hanno visto un soldo dei risarcimenti e dei rimborsi. Infiamma intanto proprio su questo tema la polemica politica, al momento siamo soltanto alla certificazione dei danni. Ne parliamo questa sera, parliamoci chiaro con tanti ospiti, Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Blasi, portavoce della segreteria regionale del PD, Davide Maione, segretario generale di Confartigianato Prato e anche Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia. A più tardi. Confartigianato, imprese Prato, plaude all'approvazione degli emendamenti al disegno di legge sul Made in Italy, proposti e sostenuti dall'associazione stessa, una misura, quella del governo, che prevede uno stanziamento di 15 milioni di euro per la promozione delle materie prime di origine italiana. Come Confartigianato abbiamo suggerito di inserire nel disegno di legge anche le materie prime della catena del riciclo, in modo che il provvedimento avesse una ricaduta davvero importante per le imprese, spiega Moreno Vignolini, presidente nazionale di Federazione Moda Confartigianato, che ringrazia i parlamentari del territorio pratese. Un riconoscimento quindi del ruolo delle fibre riciclate e dell'economia circolare, di cui Prato è uno dei centri più importanti a livello mondiale. Restyling dei marciapiedi in via Pistoiese. I commercianti perplessi sulla nuova isola a protezione di un attraversamento pedonale. Il Comitato Civico di Narnali torna a chiedere la riapertura del sottopasso di via Ciulli e lancia una proposta a provocazione. Siamo pronti a togliere noi rifiuti e sporcizia. Continuano a far discutere i lavori di riqualificazione di marciapiedi e pista ciclabile in via Pistoiese fra Narnali e Viaccia. Un progetto che sta procedendo per Lotti, su cui il Comitato Civico per Narnali fin dall'inizio ha contestato al Comune lo scarso coinvolgimento dei cittadini. Il dialogo aperto successivamente ha apportato alcuni correttivi, accogliendo diverse richieste dei commercianti, soprattutto sul mantenimento e dislocazione dei posti auto. Proprio a seguito del confronto con le attività economiche, nei giorni scorsi il cantiere è ripartito dopo un lungo stop nel tratto vicino al ponte sulla Bardena. Siamo stati dal 16 ottobre fino al 4 dicembre fermi con una buca e con le transenne, quindi non si aveva parcheggi né niente. La gente non si ferma. Mancato incasso e naturalmente il disagio, proprio disagio per noi negozianti, più che altro per l'igiene pubblica, perché era una buca e dentro c'è entrato veramente di tutto, con questa alluvione, con il vento che è tirato e tutto, cioè più che altro anche un disagio di genere. Poco più avanti, verso Viaccia, ha suscitato perplessità in residenti e commercianti il marciapiede ad isola realizzato in prossimità dell'attraversamento pedonale, un tratto dove la zona 30 è segnalata soltanto in una direzione di marcia e dove nell'altra, chi proviene da Narnali, superato il ponte sulla Bardena, si trova questa propagine di marciapiede che restringe la carreggiata. Si lamentano clienti, si lamentano ripetutamente clienti dall'inizio, da quando è stata cominciata a costruire, fino a quando è stata finita. Poco sicura, sì, poco sicura, perché comunque è stata fatta proprio per ridurre la velocità delle persone, ma le persone non ridurono la velocità e quindi c'è il rischio che venga presa, poi la strada è più stretta, i camion si scambiano male e le macchine si scambiano male. Il Comitato Civico per Narnali torna a chiedere anche la riapertura del sottopasso in Via Ciulli, i cui lavori di adeguamento sono più volte stati annunciati e più volte slittati. Volevamo lanciare una proposta, o se volete una provocazione, come Comitato Civico di Narnali noi chiediamo all'amministrazione di mandare la Polizia Municipale a aprire i cancelli, ci occuperemo noi di pulirlo, di ripulirlo di tutti i rifiuti, in attesa che comincino effettivamente i lavori, che ci auguriamo che sia davvero a brevissimo termine, dato che la magistratura ha dissequestrato questo sottopasso dall'aprile-maggio del 2022. Ci sono state le promesse di riaprirlo entro settembre per la riapertura delle scuole del 2022, in realtà sono state riaperte le scuole anche nel 2023 e ormai si va nel 2024 e il sottopasso è sempre chiuso da quel maledetto 4 ottobre del 2010. I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa notte per un incendio che ha coinvolto un'attività di esposizione e vendita di manufatti tessili con annessa zona di produzione in via dei fossi. La rapidità di intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme alle strutture adiacenti. Il materiale contenuto all'interno del capannone è andato completamente distrutto, ma non si registrano danni all'edificio e per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Sul posto erano presenti anche una squadra del distaccamento di Montemurlo ed una proveniente da Pistoia. Le cause del rogo sono in via di accertamento. Si è tenuto all'Art Hotel Museo il Consiglio Generale della CISL pensionati, sociale, sanità e post alluvione al centro del dibattito. Legge di bilancio, sanità, provvedimenti a sostegno degli anziani, servizi territoriali e non autosufficienza. Sono stati gli argomenti al centro del Consiglio Generale della Federazione Pensionati della CISL, tenuta all'Art Hotel Museo, appuntamento a cui ha preso parte anche il sindaco Biffoni, col quale si è parlato anche di post alluvione. Partiamo intanto raccontando quelle che sono state le richieste avanzate alle istituzioni sul fronte di sanità e sociale. I pensionati sono molto impegnati sulla questione della sanità e del sociale, ovviamente. Noi siamo convinti che oggi la battaglia delle battaglie è quella di riuscire a prendere in carico le persone, le persone anziane, le persone non autosufficienti, le persone che hanno problemi, perché non possiamo pensare che tutte le persone vengano mandate all'ospedale. Dobbiamo costruire un sistema di sanità e un sistema sociale che davvero paccia nel territorio la propria forza e la propria storia. Si è parlato anche di post alluvione, al sindaco Biffoni avete chiesto quelli che sono i provvedimenti per le famiglie. Sì, non c'è dubbio, l'alluvione ci pone un problema grosso che è appunto questo della tenuta del territorio a fronte del cambiamento oramai acclarato del clima. I danni fatti a molte famiglie ma anche a pezzi importanti di economia ci preoccupano molto. vorremmo capire, anche per il ruolo che ha dal sindaco Biffoni, nel lanci quali sono davvero gli strumenti che si stanno mettendo in moto per ristorare le famiglie e per ristorare le imprese e per riprendere prima possibile l'attività. Colpita dall'alluvione ma pronta a ripartire, ripulita dal fango, Villa Guicciardini torna a splendere e si prepara ad accogliere tante iniziative di Natale per grandi e piccoli. Ce ne parla Giulia Ghizzani. A un mese di distanza dall'alluvione, Villa Guicciardini è pronta a ripartire. Lo splendido gioiello architettonico della Val di Bisenzio, fino a poche settimane fa sommerso dal fango, è stato ripulito dalla melma e dai detriti e si prepara ad aprire le porte ai cittadini per tante iniziative in programma nel periodo delle feste natalizie. Il giorno dopo, quando siamo arrivati, abbiamo trovato tutto il manto del parco completamente di fango. Era stata invasa dall'acqua circa mezzo metro in tutta la parte del parco frontale e all'interno della villa. Un ripristino a tempo di record in cui sono saltati purtroppo anche degli eventi. Eh sì, il ripristino è stato veloce, fondamentale perché le date sono state otto, saltate purtroppo i nostri sposi li abbiamo indirizzati in altre strutture sul territorio, fortunatamente, quindi abbiamo limitato un pochino quello che erano i danni, però oggi ripartiamo, dai, quindi voltiamo pagina e ripartiamo. Si comincia con i mercatini di Natale di domenica 10 dicembre a ingresso libero. Per tutto il giorno stand artigianali e di prodotti enogastronomici, animazione, street food, spettacolo musicale swing a cura di Osman Gold e ben due laboratori per bambini dai quattro anni in su. Uno dedicato alla creazione di biscotti natalizi, l'altro alla realizzazione di addobbi con materiali naturali. Ci sarà la possibilità di fare una donazione per sostenere le famiglie di Cantagallo colpite dal dramma dell'alluvione. Ci sarà lo spazio per parlare di uno dei prodotti di cibi per eccellenza, cioè la castagna e poi oggettistica, obbisti, le attività che vengono fatte a favore delle scuole, quindi le attività dei genitori che si mettono a disposizione per il recupero di risorse e in una cornice meravigliosa che con grande fatica però è stata resa fruibile e ancora più bella dopo quello che tutti noi abbiamo passato dal 2 novembre. La sera del 21 dicembre spazio di nuovo alla solidarietà con la cena benefica a sostegno della fondazione Pitigliani per la ricerca in campo oncologico, mentre il 31 dicembre grande serata di festa con aperitivo, cena e DJ set per brindare tutti insieme al nuovo anno. È organizzato dall'aperitivo in famiglia dalle ore 20 e 30 in poi, cena organizzata dal caffè 21 e poi serata danzante, DJ set, fuochi d'artificio e brindisi alla mezzanotte insomma, quindi come l'anno scorso ci sarà una bella serata. Giacomo Cocchi è il nuovo coordinatore dell'edizione Pratese del settimanale Toscana Oggi e contestualmente è stato nominato dal Vescovo Giovanni Nerbini, direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Prato. Giornalista professionista, Giacomo Cocchi ha 45 anni ed è membro della redazione di TV Prato. Negli incarichi subentra Gianni Rossi che ha guidato l'edizione Pratese di Toscana Oggi e dell'Ufficio Comunicazioni Sociali per oltre 20 anni. Al collega Giacomo Cocchi vanno le congratulazioni di tutta la nostra emittente. Camerata strumentale Scuola di Musica Verdi organizzano un grande concerto di Natale per mercoledì 20 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Domenico. TV Prato trasmetterà in forma integrale lo spettacolo nella giornata della vigilia il 24 dicembre alle ore 21. Vediamo quindi come si sta preparando la formazione. L'universalità della musica, la bellezza della condivisione, la magia del Natale. Camerata strumentale di Prato e Scuola di Musica Verdi organizzano in vista delle feste un appuntamento emozionante. Un grande concerto di Natale che si terrà mercoledì 20 dicembre alle ore 21 nella chiesa di San Domenico. Protagonisti giovani talenti della città, l'orchestra e il coro della Verdi, allievi e maestri legati dal desiderio di cantare e suonare insieme. Grazie al sostegno di Conad lo spettacolo sarà poi trasmesso da TV Prato il 24 dicembre alle ore 21 e in altre date del palinsesto durante il periodo natalizio. È di già ora diversi anni che supportiamo questa iniziativa. Secondo noi è una delle iniziative più importanti sotto Natale dove viene fatta nel centro della nostra città e siamo ben lieti anche quest'anno di essere a fianco del Verdi. La serata sarà una vera festa della musica, il più sincero biglietto di auguri da Palazzo Martini alla città. A dirigere il coro della Verdi Elia Orlando, Marco Facchini sarà invece primo violino, maestro concertatore dell'orchestra della Verdi e dei solisti della scuola. L'ingresso in San Domenico è libero. Quest'anno l'appuntamento che abbiamo in programma è un appuntamento speciale che vede l'esecuzione di una messa di Charpentier che è stato uno dei compositori francesi più importanti del Seicento e questa messa si chiama proprio Messa di Mezzanotte per Natale. La messa è fatta da tanti organici diversi e ora siamo arrivati in fondo dove tutte le parti si fondono insieme, questa sarà proprio la bellezza di fare musica insieme, di incontrarsi e sperando proprio di regalare un appuntamento musicale per tutti quelli che verranno ad ascoltarci. La stiamo preparando da circa due mesi e con grandissimo impegno perché è una cosa abbastanza nuova anche per noi. Si tratta di barocco francese, quindi abbiamo da lavorare molto sulle articolazioni, sugli abbellimenti eccetera. È una cosa molto interessante per gli allievi e molto formativa anche, oltre che bella musica. Fino al 10 dicembre nel Palazzo della Provincia è aperto il mercatino della Fondazione Ant dove sarà possibile acquistare le strene per sostenere le attività dell'Associazione. Alla Biblioteca Lazzerini invece è stato allestito un albero speciale. Vediamo. In occasione delle feste di Natale la Fondazione Ant ha aperto fino a domenica 10 dicembre un mercatino solidale a Palazzo Banci Buonamici, sede della provincia di Prato. L'iniziativa si chiama Il Paniere Sospeso. Il Paniere dell'Eccellenza è una strena organizzata dalla Fondazione Ant ormai da sette anni, coinvolge circa 100 aziende del territorio della Toscana che donano i loro prodotti proprio per aiutare la Fondazione Ant. In occasione dell'alluvione che recentemente ha colpito giusto il territorio della Delegazione di Prato e Pistoia, quindi le zone di Sant'Ippolito, Oste, Quarrata, è stato deciso alla Fondazione Ant di fare un'iniziativa che si chiama Il Paniere Sospeso. Quindi qui al mercatino di Natale in provincia troverete i panieri se volete acquistarli per voi. Oppure può essere un paniere sospeso, cioè noi lo consegniamo alle famiglie che hanno avuto un problema di alluvione portandolo a casa proprio dai nostri volontari. È un'offerta minima di 25 euro e potete fare un piccolo gesto che aiuta due volte. Ci spostiamo nell'atrio della Biblioteca Lazzerini dove l'albero di Natale è stato decorato con gli addobbi realizzati dal Moica, il movimento italiano casalinghe di Prato. Con le rocche e i fili di lana, le signore del Moica hanno cucito degli originali addobbi che raccontano e testimoniano la storia di Prato. Grazie all'amministrazione comunale abbiamo avuto l'opportunità di decorare questo albero appunto collocato dentro la Biblioteca Lazzerini e con il lavoro delle nostre associate abbiamo potuto unire la laboriosità della nostra città attraverso le rocche che sono state ricoperte dal punto all'uncinetto delle nostre donne. Due tifosi del Prato hanno subito un daspo di 3 e 6 anni poiché hanno lanciato sassi alla tifoseria della squadra avversaria. In occasione della partita a Prato, Sant'Angelo Lodigiano disputata lo scorso 26 novembre allo stadio Lungo Bisenzio. Le indagini della polizia hanno consentito di identificare i due autori del lancio di sassi. Si tratta di un 53enne e di un 45enne, entrambi pratesi denunciati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Daspo di 3 anni per il 53enne e di 6 anni per il 45enne in quanto recidivo. In 3 anni dei 6, combinati al tifoso, dovrà presentarsi alla polizia a giudiziare in occasione degli incontri disputati dal Prato. Si tratta del secondo provvedimento combinato dalla questura alla tifoseria locale, dopo quello arrivato in occasione del derby Prato-Pistoiese. Ed è il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. domani alle 17 in via Muzzi e via Cesare Guasti, accensione degli alberi. Durante l'evento verranno distribuite gift card da utilizzare nel mese di dicembre in tutti i negozi partner. Alle 16 alla chiesa di San Martino a Vergaio, sulle orme di San Francesco, inaugurazione del presepe di Vergaio, realizzato dal gruppo presepisti vergaiesi. Al Circolo Arci Costa Azzurra crea un addobbo per l'albero di Natale Al Circolo, laboratorio per bambini. Sono in programma negli spazi esterni coperti dell'annificio Nuovo Rivera alla Briglia, mercatini solidali. Per tutto il giorno in via Garibaldi e via Risorgimento a Poggio Accaiano un mercatino di Natale a cura della Proloco di Poggio Accaiano. Domani e fino al 10 dicembre al Teatro Fabricone Black Star, spettacolo di Fabrizio Sinisi. E infine dalle 15.30 alle 18 alla Salabanti a Montemurlo concorso per un olio sincero 2023. L'iniziativa è promossa dalla Proloco di Carmignano e rivolta alle aziende olivicole il cui prodotto si è coltivato e raccolto secondo il metodo di agricoltura biologica. Sarà premiato l'olio biologico più sincero. E con l'agenda è tutto, ma restate con noi. Vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio LAM e a seguire il settimanale di Attualità Parliamoci Chiaro. Vi ricordiamo inoltre l'appuntamento di domani, venerdì 8 dicembre, con il Grande Cinema. Alle 20.30 su TV Prato andrà in onda il film La vita è meravigliosa, una fiaba di Natale senza tempo, interpretata da James Stewart. L'informazione di TV Prato torna poi sabato alle 13.45 con il Tg del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film, ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è, affidati a veri professionisti. Prato all'armi, una sicurezza da Oscar. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Tuscania offre soluzioni per aziende privati. Pulizie di uffici e condomini, palestre, impianti industriali, lavaggio pavimenti e moquette, trattamento cotto e pietre naturali sono alcuni dei nostri servizi altamente specializzati. Inoltre manutenzioni giardini e potature piante alto fusto. Da ormai vent'anni, l'esperienza, l'affidabilità e l'ampia disponibilità di macchinari all'avanguardia sono i nostri punti di forza per un servizio di pulizia completo e professionale. Tuscania, la qualità del pulito. Una buona serata a tutti. La carta della pressione al suolo prevista per la giornata di domani ci mostra un'area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, sul Tirreno, bassa pressione che tenderà a muoversi velocemente verso sud. Andiamo a vedere quindi la previsione per la giornata di domani, un cielo molto nuvoloso coperto già dal mattino sulla nostra regione, le piogge interesseranno soltanto le zone più occidentali, l'arcipelago e le zone di nord ovest. Deboli piogge che poi tenderanno a entrare un pochino sulla nostra regione, anche sulle zone interne, lo vedete dalla grafica, tutta la zona costiera interessata da deboli piogge, anche le province più interne saranno temporaneamente interessate da qualche debole pioggia, i mari saranno generalmente mossi, le temperature in diminuzione nei valori massimi intorno agli 8-10 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di sabato, giornata discreta con cielo in mattinata in prevalenza sereno, con venti di terra da est e nord-est e temperature minime in aumento intorno ai 3-6 gradi. Per quanto riguarda il pomeriggio arriva della nuvolosità, inizialmente soltanto delle nubi alte e sottili, delle velature, poi in serata possibilità di aumento di nubi anche medio-basse a partire dalle zone costiere, nubi che preannunciano una giornata più grigia per quella di domenica, sarà caratterizzata anche da possibilità di piovigine sulle zone centrali e settentrionali della regione. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e una buona serata. Grazie per l'attenzione e una buona serata.